Dopo il pianesi calcio anche la compagine di pallavolo del Cava Volley si è qualificata alle fasi nazionali CSI in programma cesenatico dal 15 al 17 luglio. Una soddisfazione in più per il comitato cavese presieduto da Giovanni Scarlino. La compagine di volley guidata da Antonino Mirabile ha battuto a San Lucido in Calabria la pallavolo Ceglie, formazione pugliese e poi il Liutri, squadra siciliana, in una serie di partite in cui ha inciso molto il gran caldo. Siamo felicissimi per questa storica qualificazione, ha commentato Mirabile. Per la nostra società anche solo l'accesso alla fase nazionale è un traguardo storico. Come si dice in questi casi l'appetito viene mangiando. Il Cava Volley a breve conoscerà i suoi avversari. Ma su questo risultato del CSI Cava dei Tirreni che porta due proprie squadre alle fasi nazionali di cesenatico, un fatto più unico che raro, abbiamo ascoltato Pasquale Scarlino. Sì, senz'altro come dicevi è una bella bellissima soddisfazione potendo portare dal 15 al 17 luglio a cesenatico due squadre del CSI di Cava dei Tirreni. Il Pianese Calcio per il calcio e la SD Cava Volley Energia per la pallavolo. Quest'ultima arrivata in un momento particolare e anche sotto certi aspetti spettacolari con diverse palpitazioni d'animo perché è stata una finale quella svolta in Calabria veramente al cardiopalma. Io vorrei soltanto sottolineare che sia io che il presidente Giovanni Scarlino venivamo da un incontro nazionale a Roma e eravamo in collegamento tramite Facebook per questa finale. A un certo punto le speranze erano quasi terminate perché si perdeva dopo 2 a 1 sul quarto set si perdeva 14 a 9. Quando ci siamo ricollegati stavamo al quinto set al tie break e i ragazzi hanno vinto 15 a 13. È stata una grossa, grossissima soddisfazione sia per i ragazzi ma sia soprattutto per il volleycavesi. Dove tra l'altro tra i componenti della squadra c'è anche il nostro consigliere comunale Eugenio Canora. Non vi dico che gioia quando poi ci siamo fermati, ci siamo collegati con videochiamata ma c'era una gioia immensa. Quindi io credo che veramente il centro sportivo italiano quest'anno con queste due belle realtà che porta a Cesenatico. Io spero che riusciamo a fare un'unica comitiva con un Pullman che partirà da Cava nella giornata di venerdì per insieme fare questa bella bellissima esperienza.